Una soluzione per questo ponte che verrà buttato giù a breve perché creerà un grosso disagio a tutta la popolazione e in particolar modo a persone che hanno problemi di deambulazione come la mia figliola che è in carrozzina, come passeggini, come tanta gente che passando di qui evita la 71, che è una cosa devastante. La richiesta di una soluzione arriva dai residenti di questo quadrante dell'abitato di Ricutino, praticamente un quarto della popolazione della frazione del comune di Arezzo attraversata dal regionale 71, strada tristemente nota per incidenti stradali e investimento di pedoni. Questo ponte, opera privata, nei prossimi giorni verrà demolito per un'ordinanza del genio civile regionale. È pericoloso per il rischio idrogeologico di questa zona. Sotto ci passa il rio di Ricutino, un corso d'acqua che ha nella sua storia già alcune esondazioni, anche se non con conseguenze gravi come quelle a cui abbiamo assistito in queste settimane in Toscana. Che cosa dice la regione toscana? Perché viene demolito? C'è un problema di sicurezza idraulica? Nel 97 c'è stata un'esondazione molto pericolosa a Ricutino, fortunatamente senza grossi problemi. Però tutta la tratta che attraversa Ricutino è stata monitorata e tutte le strutture di questo tipo sono state fatte rimuovere. Però erano tutte strutture fatte per proprietà singole. C'avevano il ponticello che andava a casa. Questa ha un'altra funzione, un'altra valenza. E per questo siamo qui per vedere, salvaguardare questa continuità, non il ponte in sé. Partendo però proprio dall'alluvione del 2 novembre, adesso la necessità dell'abbattimento di questa opera si è resa non più rimandabile. Questo causerà non pochi disagi a chi sta. Al di là del ponte, tutti coloro che vorranno raggiungere a piedi l'altra parte del paese avranno una sola alternativa, attraversare la strada regionale 71 che si presenta con un marciapiede sicuro da una parte e dall'altra, con scalini e passaggi a dir poco pericolosi. Voi abitate praticamente in questa zona, quindi se il ponte viene demolito che succede? Il ponte demolito, praticamente il paese viene diviso in due, perché praticamente qui è la metà del paese, metà da questa parte e metà da questa. Tutti quelli come noi, che ci siamo i bambini piccoli, di cui uno anche carrozzina, che quando si portano i giochini, che sono dall'altra parte, al parco dei giochi, bisogna passare di qui, tutti passano di qui. E poi per la statale non si potrebbe passare, perché c'è marciapiede, prima cosa stretto, non è nemmeno un metro, poi ci sono i scalini, oltretutto il traffico è pericoloso. Tutti i principali servizi, o banalmente anche negozi, sono dall'altra parte del paese, quindi i residenti sono costretti ad affrontare il pericolo dell'attraversamento della 71. È un giro lunghissimo, carrozzine, per esempio abbiamo la sua mamma col deambulatore, anche lei viene a fare la sua passeggiata qua, costretta a zero, perché dove va? Chi viene? A camminare, a passeggiare, gli anziani che vanno come mia madre col deambulatore.